Buon Natale a tutti, oggi sfida regali Chi prende prima la traversa, primo regalo Secondo, secondo regalo Terzo, e questo è per voi Chi commenterà di più nel video avrà la palla firmata da me Fino al 31, quindi cominciamo la sfida, vediamo chi vincerà Sei primo? Vai Niente, secondo partecipante Eccola qua Che pressione, il primo partecipante che può vincere la sfida Niente, va bene, va bene, riproviamo Niente, non sa che nessuno vince niente quest'anno Oh, c'è un po' di tensione, avete un po' di tensione Puoi vincere, se prende la traversa, aspetta, c'è lui a calciare Primo premio, attenzione Niente Mamma mia Come si fa a sbagliare così Ah, niente 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 Toccata Di poco ma toccata Però aspetta, lui devi Se prendi, se ti apparece Quindi, vediamo Niente Niente, il primo abbiamo già Quindi fate la sfida per il secondo posto Vai Vai Attenzione Niente 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 Oh, se uno prende la traversa e l'altro sbaglia è finito Mamma mia Come corrono questi ragazzi Quanto scondo palla Si concentra Devi concentrare Non essere nervoso Appunto Nero in croce No No No, per poco Allora Primo premio Sui Fa vedere cosa c'è Eccola qua Secondo premio Eccola qua Ehi vabbè Vieni qua Dai Lui vogliava il pallone ma Vai te regalo un pallone Anche a te Dai Vieni qua E questi qua è per voi ragazzi Un abbraccio swatch Eccola 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 Ok Quanto